Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda. Ebbene sì, questa è la scorsa settimana che si è conclusa. Questa settimana qui, cioè la terza settimana, la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19, ho deciso ancora di decorarla con un tema un po' invernale. Infatti ho utilizzato come washi principale questo qui con tutte queste palle di cristallo e poi ho voluto utilizzare questo qui sulla base dell'azzurro con tutti i fiocchi di neve. Due washi che ho sempre trovato sul sito di Aliexpress. Poi come washi slim ho voluto utilizzare alcuni con i fiocchi di neve, alcuni con delle piccole montagne, non so se si riesce a intravedere. Poi ho utilizzato questi washi con le palle di cristallo con all'interno tutti gli animaletti e poi ho voluto attaccare qualche fiocco di neve, questi qui li avevo presi da Tiger l'anno scorso, se non ricordo male, un anno fa, due anni fa, non ricordo, comunque li avevo presi da Tiger. E niente, questa settimana qui ancora l'ho voluta rendere un po' ecco a tema invernale, visto che almeno nelle mie parti fa veramente freddissimo, fa più freddo adesso a gennaio che tutto novembre-dicembre. E quindi niente, la decorazione è questa qui, è anche molto semplice, come potete vedere non è chissà quanto complicata, ho attaccato semplicemente degli stickers e niente di che, però devo dire che mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Gli appuntamenti video. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti video, questa settimana non so se ci saranno due o tre video. Intanto, oggi, lunedì 13, c'è il video della decorazione agenda e poi dovrò pubblicare un altro video dei miei regali che ho ricevuto all'Epifania, perché come vi avevo già accennato la scorsa settimana, all'Epifania non sono abituata a ricevere la calza, ma ecco, dei pensieri che ve li mostrerò in un video. Infatti, la scorsa settimana, venerdì, vi avevo mostrato i miei regali che avevo ricevuto a Natale, mentre invece questa settimana vedrete i regali che ho ricevuto all'Epifania. Sono tre cosine, non sono niente di che, però comunque se ci tenevo a mostrarvele. Che altro dire? Non so quando pubblicherò il video, perché ancora devo un attimo vedere come riesco in base ai miei impegni. Che altro dire? Questa è la mia decorazione agenda, spero che vi piaccia anche a voi, ve la mostro più da vicino. Guardate quanto è carino questo pinguino qua, è veramente adorabile, mi piace tantissimo. E niente, questa è la mia decorazione agenda di questa terza settimana di gennaio. Che dire? Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su, spolliciate in su se il video vi è piaciuto, fatemi sapere anche giù nei commenti, se non mi bloccano il video. Se la decorazione vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così da non perdere la notifica dei miei prossimi video che pubblicherò. Un bacione grande, grande, ciao al prossimo video. Ciao!